In caso Gregoretti mi sembra che sia una decisione presa dal governo, perché lo sapevano tutti, non credo che Conte e Di Maio non guardassero la televisione. La maggioranza la vuole usare come processo politico, decide la data per motivazioni politiche, insomma dispone di quello che vuole. Dopodiché noi evidentemente ci sentiamo e Salvini si sente la gente normale che incontra tutti i giorni dalla sua parte, questa è la cosa importante, cosa che non hanno gli altri evidentemente.